Start, 2, 1, booster ignition and liftoff! E a turni, ecco, la prima news che vi voglio dare è che il 20 di agosto uscirà in 1.0, quindi esce dall'early access pubblicato inizialmente il primo marzo del 2021, l'avevamo portato sul canale, insomma, quel video lì ormai è vecchio, però se volete darci un'occhiata, la cosa più sorprendente di questo titolo è che le recensioni su Steam sono, sia le recenti che le complessive, sono estremamente positive. E' un gioco di cui si fa parlare molto bene, purtroppo il gioco non è in italiano, non so dirvi nemmeno se verrà tradotto in sede di Rilascio in 1.0, però ecco, insomma, è quanto, possiamo scegliere una delle classi, tutte le altre sono sbloccabili, tra l'altro con gli ultimi aggiornamenti è stato aggiunto anche qualche finale in più, oltre a quelli già presenti. Va bene, vediamo, qua abbiamo, lo iniziamo proprio rapidamente, giusto per ridare una minimo di visibilità al gioco, una rinfrescatina, giusto giusto l'inizio, perché le news di questo video sono due, e la seconda è ancora più succosa, però, intanto, vediamo. Vedete? Qua avevamo la visuale dall'alto, molto pixelosa, dove abbiamo le nostre condizioni, le nostre esperienze, i tratti, e qui abbiamo l'action panel, dove possiamo andare a craftare, cucinare, dormire, fare le varie cose. Qua in alto abbiamo la mappa, e qui è il nostro personaggio con i suoi punti vita e punti azione, quindi cliccando sulla mappa vedete che la mappa è grande, in realtà ci sono un sacco di posti qua in mezzo, se guardate su Steam vedrete la mappa completa, abbiamo l'help che ci aiuta in ogni punto, una sorta di tutorial nel gioco, e poi abbiamo il menu classico. Qua abbiamo la possibilità di craftare i vari oggetti, abbiamo la possibilità di cucinare, e la possibilità di dormire, e poi abbiamo, vedete, ci sono i punti di movimento, punti 0,9 spesi, quindi praticamente qui abbiamo tutte le nostre specifiche, vedete che li consumiamo, e possiamo andare a interagire, sembra quasi di giocare un gioco in scatola, Inside the building, Item Plank, Pickup, G, quindi prendiamo, ok, e c'è la porta, sembra quasi di giocare a Zombicide, Open, ok, vedete, tutto così, molto carino perché c'è proprio il movimento, spendiamo due punti azione per la ricerca, troviamo tutti questi oggetti che prendiamo, Take All, e poi ci appropinchiamo vicino alla porta, e qua si esce all'esterno, non abbiamo punti, quindi in questo caso finiamo il turno, vedete che poi muovono gli zombie, ed è molto carino perché l'obiettivo di questo gioco è raggiungere Terminus, non c'è il movimento con Vazd, ma dobbiamo proprio cliccare col tasto destro, e qui accediamo a una nuova mappa, mi ricorda veramente molto Project Zomboi, e non Project Zomboi, anche, ma soprattutto Zombicide, il gioco da tavolo, qua possiamo spendere i punti, 12 punti, per muoverci di mappa, e quindi andare in una nuova zona, dove all'interno vediamo che c'è qualcosa, c'è uno zombie, noi al momento non abbiamo armi equipaggiate, quindi dovremmo andare a equipaggiare l'arma, anzi credo sia già equipaggiata, sì, qua abbiamo la temperatura in overlay, e vedete che ogni luogo ha una sua temperatura, e qua abbiamo le nostre statistiche. Ok, detto questo, vi voglio far vedere un'altra cosa, ve la faccio vedere direttamente da qui, dove potete leggere, se non avete il gioco non lo potete sapere, che il 26 di settembre, quindi manca più di un mese, un mese e mezzo, verrà rilasciato in 1.0 Shadows of Doubt, ora, non credo arriverà in italiano, ma ci saranno contenuti aggiuntivi, tra l'altro il gioco passerà il 23 di agosto dai 19.99 a 24.99, quindi pensateci, se il gioco vi è piaciuto, il gioco secondo me manca ancora di alcuni contenuti, come ad esempio la possibilità di iniziare, poi magari qualcuno di voi mi smentirà, però la possibilità di stare a casa e dare un'utilità al computer che potete comprare e mettervi in casa, perché non serve a nulla ed è bello, secondo me, magari indagare sul campo, tornare a casa e sul computer operare e fare varie cose. Non so se è stata già aggiunta, se verrà aggiunto in questo major new content che aggiungeranno prossimamente, tuttavia sono state aggiunte nuove cose, come l'hotel, i casi di infedeltà coniugale, dove dovete indagare, hanno aggiunto gli omicidi per cecchinaggio, in pratica dovete seguire un pochino, fare delle congetture sulla traiettoria di un proiettile che è entrato dalla finestra, trovando magari l'arma nella finestra di fronte e cose del genere. Quindi il gioco è stato ampiamente ed è godibilissimo anche in inglese dal mio punto di vista, un minimo poi imparati i termini, perché alla fine è tutto molto schematico. Comunque queste sono le due news che vi volevo dare, fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima! Ciao ciao! Grazie a tutti!